Le motivazioni ne ho tantissime, innanzitutto sono stato sei mesi praticamente fermo a guardare gli altri che giocavano, quindi ho una motivazione, una fame, una voglia di giocare incredibile. Una motivazione in più è che il direttore mi sta cercando già da un anno e quindi ho voglia di ripagare la sua fiducia, ecco è quella anche del mister che mi ha voluto portare qua. Sono stato quattro anni a Vercelli, abbiamo sempre lottato per la salvezza, questo è un campionato imprevedibile ogni anno dove la prima in classifica può perdere con l'ultima, è sempre così. Io penso che le partite si vincano prima di tutto con la fame, la cattiveria e la voglia di fare punti. Spero che ci salviamo anche noi il prima possibile, ho trovato un ambiente e uno spogliatoio con entusiasmo, molto entusiasmo, dove seguono tanto il mister, si rema tutti dalla stessa parte, mi hanno parlato tutti in maniera positiva, quindi c'è un ambiente entusiasmo e hanno voglia di fare bene.